Fumo hashish o marijuana da boh 10 anni. Oggi non posso arrestare chi si trova. Quindi arriva e rivenuta la polizia a casa a portargli la lettera degli esiti del peccacino. Non farti la roba perché sennò diventi tossico. Se vi faccio le gambe no. Lavoro, la mattina mi alzo alle 7. Buon ultimo anche, oltretevere il Vaticano, che trae grande guadagno. Dalle politiche proibizioniste. Bisogna intervenire rapidamente perché ho una metastasi bruttissima. Qualunque cosa uno vi dica, andate a vedere, studiare, guardare le cose, leggere. Io la droga non ho mai fumata. Il rigatto nei confronti della cittadinanza è il fatto che non sia liberi appunto di poter fruire del parco nelle ore serali. Forse sono a favore della legalizzazione della coltivazione della cannabis. Non sono favorevole, no, perché la considero una droga leggera, sempre e comunque una droga. Se non se ne parla, ecco, è sicuro che non si arriverà mai a fare un passo avanti nella direzione giusta. Il tempo ormai è al limite, qui restano le briciole, ma lasciami decidere.